Mi parla di scarpe, di asili, di mamme, dell'estate del 1972 e magari ora mi farai anche la storia della sua generazione. Non si preoccupi, io mica lo so cos'è la mia generazione, so che c'era Ignazio, Maria, io, c'ero anch'io e stavamo ancora a casa con i nostri genitori, un anno è nevicato, un altro anno sembrava dovesse esserci un colpo di stato. A un certo punto andavamo tutti, era d'estate, andavamo tutti in Portogallo, non mi ricordo più perché. Sì, per andare a vedere un colonnello, si chiamava Otello de Carvaio, chi era? Grandula, Villa Morena, terra da fraternità, o povo è che è mai sordena dentro di ti, oh città. Grandula, Villa Morena, terra da fraternità, o povo è che è mai sordena dentro di ti, oh città. La terra da fraternità, o povo è che è mai sordena dentro di ti, oh città. La terra da fraternità, o povo è che è mai sordena dentro di ti, oh città. La terra da fraternità, o povo è che è mai sordena dentro di ti, oh città. Grazie. Grazie. Grazie.